Siamo usciti 5 minuti e c'è un assalto alto. Siamo usciti, siamo arrivati in centro che era più o meno 10 minuti neanche a piedi dall'hotel e c'eravamo io e Lisa e due sue amiche e in pratica sono arrivati questi gruppi di ragazzi e uno mi ha chiesto ma tu fai TikTok? e gli faccio sì sì perché lui si gira e mi fa senza un cuore e poi è scoppiato a ridere. Allora io ho notato che dal vivo ci troviamo molto meglio. C'è più sintonia. Mi piace dal vivo come la trovi? Ma prima impressione è uguale dai social? Uguale uguale uguale. Giorgi Ortiz? Sì sì uguale. Quando l'hai vista la prima volta hai detto mamma che buono e hai detto cavolo era meglio dai social. No ho detto ammazzo friggio. Ehi piccola ti ricordo che mi trovi in live sulla piattaforma Viola dalle 21 e 30 dal lunedì al venerdì. Passa di lì se vuoi goderti lo show e se mi vuoi supportare fai anche una soap. Ti ricordo che con Amazon Prime è gratuita. Baby you light up my world like nobody else. Allora innanzitutto voglio un attimo sentire voi Giamma come è andata? Dove vi siete beccati? Come è andata? Che impressionità? Allora io ho notato che dal vivo ci troviamo molto meglio. Sì. C'è più sintonia. Sì sì. Esatto. Ma ti piace dal vivo come la trovi? Ma prima impressione è uguale dai social? Uguale uguale uguale. Giorgi Ortiz. Sì sì. Eh? È uguale eh? Uguale. E cazzo sei? Quando l'hai visto la prima volta hai detto mamma che buono e hai detto cavolo era meglio dai social? No ho detto ammazzo friggio. Ammazzo friggio. Ma? Come avete passato il weekend? Cosa avete fatto? No è bene siamo stati... Siamo usciti cinque minuti e c'è un assalto alto. Cioè... Sì è maggio. No tu... Dio pure te. No non è vero. Siamo usciti, siamo arrivati in centro che era più o meno dieci minuti neanche a piedi dall'hotel e c'eravamo io e Lisa e due sue amiche e in pratica sono arrivati questi gruppi di ragazzi e uno mi ha chiesto ma tu fai TikTok e gli faccio sì sì perché lui si gira mi fa sto incoglione e poi ho scoppiato a ridere, sono scoppiato a ridere anch'io. E poi tipo come stanno a cammino c'hanno urlato, c'hanno urlato, non so. Sì sì. Ma assurdo, c'eravate poi le star la madre, assurdo. C'è abusato. Eh. Ma che si è abusato? Ma me l'hanno minacciato, non so. No il doc sono con la macchina, nuova parole. No a me mi bisogna prendere la macchina ogni tanto, raramente. Ma raramente. No perché il doc è quello che trattava le ragazze e uno non ci sono. perché la macchina deve essere pulita. Va bene. Giorgeli, tutta questa popoletà ti ha cambiato? No, cioè non è popoletà. Cioè come è cambiata la cosa? Il successo ti ha cambiato. Cioè guarda come ne svegli la mattina. Il caffè come lo prendi? Col minolo alzato o col minolo chiuso? Capirci? Ci ha cambiato l'inizio a cambiare le tue abitudini oppure no. Come lo torseggi? Il te lo torseggi caldo o poi lo torseggi tiepido? Perché dopo se ti cuoci la lingua non puoi parlare con le tue fans. Spiegami un po'. No ma io penso che ci stavano insultando più che... Ma effettivamente anche io se ti insulterei si dovessi vedere mezza la strada. E' più che assaltati se siete stati abusati diciamo. Esatto. Scusa, mi è capitato con uno questo gruppo o altri in su? Cioè non ho capito? Ma io non ho capito, cioè all'inizio era un gruppo, poi dopo mi son girato ed erano di più, cioè all'inizio erano tipo tre ragazzi. Poi dopo mi son girato erano in dieci. Vabbè ma perché, cioè a me comunque siccome sono di qua, cioè li conosco già la gente, però tipo lui è venuto... Ma mi hanno chiesto delle foto e mi hanno solo abusato? No, perché siamo atti via, cioè... Ragazzi, voglio dare voglia di fare la foto con voi, però voi siete andati. No, nessuno fa la foto, stiamo solo urlando. Ma non c'è stato nessuno che ci ha chiesto la foto, non mi ricordo. Non mi ricordo. Fammi pensare... Spoiler, no. No, non c'è anche questa foto, ci hanno solo urlato, cioè. Allora ragazzi, comunque... No, non me lo ricordo. Aspetta, e poi, aspetta, tutte le ocche, tutte le ocche che lo guardavano, con la bava alla bocca. Sì, eh? Questo è credibile, questo è credibile. Ma erano ocche oppure erano umani che tu hai fatto il paragone? No, ocche. Perché se le ocche lo guardano con la bava alla bocca è pericoloso perché quelli ti assaltano, le ocche. Non lasciare le briciole. Invece tu stavi facendo lo scherzetto che il locker o le ragazze... Top 10 momenti irrispettosi nella storia del calcio. L'abuso alla Maria. Gian Marco e Lisa. Oltre ai best skill e ai best abusi. Adesso, in realtà o no, comunque stanno iniziando a conoscervi. Ricordatevelo, sono molti... L'invidia è tanta nel mondo. Sì, mi hanno bloccato... Altiz, com'erano le amiche della Giorgi? Erano buone perché io sono single, me ne sarebbe una, sì. Allora, beh, Elisa era meglio di tutte. Anche di quelle che abbiamo visto fuori. Di tutte quante? Perché tu non mi hai mai detto... Eh? Perché tu non mi hai mai detto queste cose? Che cosa? Che sono l'unica, la più bella. Ma, vabbè, no, la più bella tra le tue amiche no. Però l'unica... Allora, però, aspetta. Qua c'è bisogno di... Come dice il doc, realismo. Sei una delle più belle. Se io mi... Qua realismo. È stato detto che... Allora, neanche a Sortiz, come erano le amiche di Elisa, e Ortiz ha detto che per me Elisa è la più bella di tutte e anche di quelle che abbiamo visto in giro. Allora, per me... Ok. Se io mi fidanzo con una, ovviamente esteticamente mi piace, ma mi piace anche caratterialmente. Ma se tu mi metti la mia ragazza con una delle ragazze più belle del mondo e tu mi dici per me lei è più bella di questa, è una minchiata. Non è vero. È come un oggettivo. Ma non è che la nostra ragazza più bella del mondo. È come un oggettivo. Realismo? È realismo? Volete sapere come è brutta realtà? No, per me, Elisa e Barbieri è più bella. Se ci stai insieme da dieci anni è la ragazza più bella del mondo e la ragazza più bella del mondo. Se ci stai insieme da un mese sei così innamorato, magari sei così preso che veramente puoi dire una stronzata del genere. Dopo quattro anni dici minchia, ho detto una minchiata, è la ragazza più bella del mondo e la ragazza più bella del mondo. Fine, poche chiacchiere. Perché poi l'amore non esiste, esiste l'abitudine. L'amore non esiste, esiste l'abitudine. Fuori dai... Fuori dai coi di... Fuori dai...